benvenuti nel vecchio questo è il mio vecchio furgone fatto tutto io costruito ma semplice materiali di recupero abbiamo tavolo così quando arrivo tavolo così lavoro che si è il lavoro l'office un frigo riferimento così per le cerveza e per le birre poi per farmi da mangiare opla ci mettiamo sopra farlo mangiare con la bombolette queste poi cosa abbiamo così nasa a sicile pasta di toto oggi basta fatta in casa oggi poi qua le storage ma così così qua serbatoio serbatoio per la doccia doccia ma fuori però dentro non se quede e questo per inverno riscaldamento una bella stufa è molto calore questo poi qua storage normale bc toilette il mio toilette privato 1,85 lunghezza 120 larghezza e comodo e materasso aria io vivo nel vecchio nel mio furgoneta il vecchio e da un annos un annos e giro italia e spagna la vita e la vita è molto fantastica libri ogni tanto o se no digital ebook ipad e digital ebook e poi storage tavolo a table valigia drone ricambi attrezzi per lavorare un desiderio da bambino mi è sempre piaciuto viaggiare conoscere posti nuovi gente nuova la caravana o la furgoneta è quello che mi dava questa possibilità poi lavorare con il computer online con l'italia è possibile fare non serve ufficio e va bene anche furgoneta ed è molto fantastico bello la luce tutto a led tutto led qua solo questo giorno luce giorno ecco l'interruttore una piccola luce per i libri e il resto fine questo è il vecchio si chiama il vecchio il vecchio 28 anni 28 anni il mio lavoro principale è il tecnico video del maxi schermi per concerti, eventi, messe grande big wall led poi editing video foto online quello ma il trabacco mi sposto Italia Germania Francia arrivo schermi grandi e via spettacolo lo show vivo in campeggio a Bologna in Fiera a Bologna c'è campeggio arrivo col vecchio metto lì trabacco e campeggio alla sera e poi lavoro online dopo sport slackline in Spagna SUP ho iniziato SUP e questo basta altro non c'è è una vita bella non c'è non c'è non c'è non c'è